ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora quanto costa un motore della tesla motoresse e allora in giro tra i miei tanti contatti ho avuto vari diciamo prezzi varie valutazioni però ragazzi un 99 per cento parliamo sempre di componentistica usata questo che vedi in un motore originale della tesla motoresse incluso di ruote dentate cioè tutto il gruppo di trasmissione più l'inverter e allora il prezzo del kit che appunto serve per andare a eventualmente convertire un'auto a benzina o diesel in elettrico sfruttando le componenti originali tesla e varie ragazzi vari il prezzo varia dai 10 mila fino anche ai 15 mila dollari però parlando solo o del motore l'elettronica di controllo del motore e come abbiamo detto la trasmissione più un eventuale computer dove andare diciamo ad avere tutte le varie impostazioni parametri il pedale dell'acceleratore e il gruppo di di potenza ecco per quanto riguarda il controllo dei motori gli raccordi e i supporti per andare a installare il motore dentro al vano motore della nostra vettura però in questo prezzo come già hai capito è escluso di batterie cioè tutto il gruppo di accumulo o il regolatore di carica eccetera eccetera 11 mila 13 mila 14 mila dipende poi chi è il fornitore ecco sono prodotti non disponibili in italia ovviamente sono prodotti che provengono dall'america usati come abbiamo detto per quanto riguarda la scheda tecnica posso dirvi che è un motore che funziona a 400 volt in corrente continua perché l'inverter lo ha già diciamo incapsulato come vedi nell'immagine destra e sinistra sono motore più inverter che controlla appunto il motore il motore un motore a corrente alternata massima corrente oltre mili ampere massima potenza 400 kilowatt input volta da 275 fino a 400 volt poi abbiamo il peso circa un 300 kg calcolando tutto motore ruote tentate gruppo inverter e anche gli altri accessori la garanzia che danno massimo un anno perché ovviamente più di un anno non te la possono garantire e perciò questo è per farti capire che se tu hai un auto benzina o diesel e vuoi andare a modificarla con retrofit potresti anche valutare di utilizzare i componenti originali di casa tesla e non sono componenti nuovi per la maggiore provengono da auto dismesse incidentate recuperate ricondizionate componenti secco non funzionante ma ricondizionata garantita un anno è però ragazzi il prezzo è altino e parliamo sempre di oltre di 10 mila dollari a questo poi serve anche il gruppo pacco batterie ecco su questo si potrebbe andare a fare una rossa grossissima parentesi perché il gruppo batterie come si sa è quello che costa molto di più ma già avendo 11 mila dollari per quanto riguarda componentistica parzialmente diciamo usato ricondizionata quanto può venire a costare il gruppo batterie ecco su questo ragazzi possiamo fare un nuovo video dove analizzeremo anche tutto il comparto batterie quale possiamo ci buttiamo sempre sulle batterie originali destra così vediamo se riusciamo a fare una sorta di totale complessivo di quanto potrebbe venire a costare in linea generale costruire da zero una tesla però ovviamente non con telaio tesla sempre adattandola al nostro telaio della vettura comunque questo lo vediamo nel prossimo video e se questo video ti è piaciuto ragazzi un like mi raccomando segui il canale iscriviti al canale un commento fammi sapere cosa ne pensi e niente ciao e al prossimo video